Francesca Puglisi, candidata del PD alle prossime elezioni europee, nella circoscrizione nord-est, Emilia Romagna, Veneto, Triuli Venezia Giulia e Trentino, una circoscrizione molto popolata, da sempre impegnata sul versante delle donne, dei giovani, vuole andare nel Parlamento europeo perché? Voglio portare in sede europea le battaglie che ho fatto anche nella scorsa legislatura e che mi hanno visto particolarmente impegnata sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza. Sono stata Presidente della Commissione d'inchiesta sul femminicidio e ritengo per esempio che sia davvero importante fermare le destre in ambito europeo che stanno avanzando cercando di calpestare i diritti delle donne. Proprio in sede europea recentemente ho sentito dire cose terribili sulla Convenzione di Istanbul di contrasto alla violenza maschile sulle donne e dunque non solo per questo ma per portare la voce dei territori credo che sia importante in questa competizione metterci la faccia. Una volta arrivata nel Parlamento europeo non sparirà come gli altri parlamentari? Assolutamente no, a Bologna mi conoscono molto bene, in Emilia Romagna sono una persona che ha sempre risposto al telefono a tutti ma non solo per dire delle parole ma per fare fatti concreti. L'Europa è una sede molto importante innanzitutto per le risorse che possono arrivare concretamente ai territori non solo per le infrastrutture ma anche per le associazioni che grazie al Fondo Sociale Europeo possono investire in formazione, in educazione e in cose che sono davvero fondamentali per le competenze soprattutto dei giovani. Abbiamo una generazione, la mia generazione è cresciuta con l'Erasmus e credo che vincere con le forze democratiche il prossimo appuntamento europeo sia garanzia innanzitutto per i giovani di poter continuare a vivere in un'Europa libera, libera da muri, da frontiere, di permettere anche alle nostre aziende di continuare ad esportare liberamente i propri prodotti, non dimentichiamolo l'Italia, in particolare il nord-est vive di esportazioni e i dazzi che stanno imponendo le destre a livello globale, pensiamo a cosa sta facendo Trump sarebbero una sciagura vera per le imprese del nostro territorio. Il tema sarà un'Europa che deve aiutare per lo sviluppo economico e a creare lavoro per i giovani. Io sono fiduciosa perché se si entra in un'azienda del nord-est si capisce immediatamente che l'immigrazione è una risorsa non è un problema per le aziende del nord-est in quanto spesso insieme a lavoratori e lavoratrici italiani ci sono tantissimi lavoratrici e lavoratori stranieri, pensiamo anche a tutta la filiera dell'agroalimentare quanto si basi sul lavoro e sulla mano d'opera di tantissime persone immigrate nel nostro paese non per delinquere, dobbiamo combattere la delinquenza qualsiasi sia la nazionalità di chi la pratica ma appunto basata sul lavoro di tantissime persone che vengono a cercare nel nostro paese una speranza di vita migliore e le nostre imprese vivono come dicevo prima di export dunque è fondamentale mantenere quanto più possibile le frontiere aperte e la libera circolazione delle merci dunque a differenza delle elezioni politiche dove sicuramente abbiamo pagato qualche errore di troppo io credo che le persone sappiano bene che questo partito democratico che si alleerà poi nel prossimo parlamento europeo con le forze democratiche che ci saranno dal centro a forze più di sinistra può garantire il benessere in questa Europa non lo farà senz'altro Salvini che è alleato proprio a differenza della propaganda che fa proprio con quelle forze che in Europa non vogliono per esempio una redistribuzione delle quote di immigrazione che sbarcano e arrivano nel nostro paese quindi anche questo non dimentichiamocelo io sono davvero fiduciosa quindi io sono davvero fiduciosa